Capitolo 16 La lama, deviata dal giubbotto antiproiettile, lo ferì all'avambraccio sinistro. Coriolanus balzò indietro e tentò di respingere Bobbin, ma trovò solo il vuoto. Finì a terra, in mezzo a un mucchio di detriti, vecchie travi e intonaco, cercando con la mano qualcosa con cui difendersi. Bobbin gli saltò addosso di nuovo e stavolta mirò alla sua faccia. Coriolanus chiuse le dita intorno a un asse di legno e la sollevò violentemente, centrando Bobbin alla tempia e facendolo cadere in ginocchio. Poi si alzò e, impugnando l'asse come una clava, la batte sul suo avversario più e più volte. «Dobbiamo andarcene!» gridò Sejanus. Adesso Coriolanus sentiva dei fischi e un martellare di piedi che scendevano dalle tribune. Confuso, accennò un movimento verso il corpo di Marcus, ma Sejanus lo allontanò con uno strattone. «No, lascialo lì! Scappa!» Senza farsi pregare, Coriolanus corse a tutta velocità verso la barricata. Un dolore lancinante lo trafisse dal gomito alla spalla, ma lui lo ignorò, muovendo le braccia avanti e indietro più forte che poteva, come aveva insegnato loro la professoressa Sejal. Quando arrivò alla barricata, il filo spinato gli affondò nella camicia e, mentre si voltava per liberarsi, li vide. I due tributi del distretto quattro, Coral e Mizzen, con Tanner, il ragazzo del mattatoio, venivano dritti verso di lui, armati fino ai denti. Mizzen portò indietro il braccio per lanciare un tridente. La stoffa della manica di Coriolanus si lacerò, mentre la strappava via dal filo spinato e si tuffava a terra per togliersi dalla traiettoria di tiro, con Sejanus subito dietro. Solo pochi raggi di luce lunare penetravano gli strati della barricata, e Coriolanus finì per sbattere contro un groviglio di legno e reti come un uccello selvatico in una gabbia, facendo sì che ogni tributo che per qualche ragione si era perso la sua presenza si accorgesse di lui. Urtò una lastra di cemento con il viso, e Sejanus gli piombò addosso, facendogli picchiare una seconda volta la fronte contro l'inamovibile superficie. Quando Sejanus indietreggiò, fu come se la commozione cerebrale non se ne fosse mai andata. La testa gli pulsava e si sentì avvolgere da una nebbia di confusione. I tributi cominciarono a mandare urle esultanti e a far sferragliare le loro armi contro la barricata, mentre inseguivano i mentori attraverso il labirinto di tunnel. Quale direzione dovevano prendere? Pareva che i tributi li circondassero. Sejanus, afferratolo per un braccio, iniziò a trascinare Coriolanus, che gli andò dietro inciampando alla cieca, ferito e terrorizzato. Era così allora. Era così che doveva morire. La rabbia per l'ingiustizia di tutta la faccenda, il modo in cui faceva sembrare assurda la sua intera esistenza, lo pervasero con una scarica di energia che lo spinse a precipitarsi davanti a Sejanus, fino a ritrovarsi carponi in mezzo a una nube di tenue luce rossa. Il corridoio. Riuscì a distinguere i tornelli più avanti, dove erano raggruppati i pacificatori vicino alle sbarre. Corse a mettersi in salvo. Il corridoio non era lungo, eppure gli sembrò interminabile. Camminava sollevando e abbassando le gambe a fatica, come se fosse immerso nella colla fino alla vita, e una costellazione di puntini neri gli annebbiava la vista. Sejanus rimaneva sempre al suo fianco, ma i tributi stavano guadagnando terreno. Qualcosa di duro e pesante, un mattone, lo colpì a un lato del collo. Un altro oggetto gli passò il giubbotto e vi si conficcò, continuando a ondeggiare alle sue spalle finché non cadde con un rumore metallico. Dove era la loro copertura? Gli spari con cui i pacificatori avrebbero dovuto proteggerli. Non c'era niente, proprio niente, e le sbarre erano ancora allo stesso livello del pavimento. Avrebbe voluto gridare loro di uccidere i tributi, di sparargli su due piedi, ma era troppo corto di fiato. Qualcuno dal passo pesante accorciò di qualche metro il suo vantaggio, ma ricordando ancora una volta gli insegnamenti della professoressa Seackel, Coriolanus non si azzardò a sprecare nemmeno un secondo per voltarsi a vedere chi fosse. Davanti a lui, i pacificatori erano finalmente riusciti a inclinare le sbarre, sino a ottenere uno spazio di una cinquantina di centimetri da terra. Coriolanus si tuffò, raschiando il mento sul fondo ruvido e arrivando soltanto a far passare le mani sotto le sbarre. I pacificatori lo afferrarono e diedero un potente strattone. Non ebbe il tempo di girare la testa. Così sfregò il resto della faccia sulla superficie sudicia finché venne messo in salvo. I soldati lo lasciarono immediatamente per recuperare Sejanus, che lanciò un grido acuto quando il coltello di Tanner gli squarciò il polpaccio prima che scivolasse fuori portata. Le sbarre tornarono al loro posto con un tonfo e i paletti bloccarono la struttura, ma i tributi non si scoraggiarono. Tanner, Mizzen e Coral continuarono a sferrare colpi verso Coriolanus e Sejanus, infilando le armi tra le sbarre e vomitando insulti carichi d'odio, mentre i pacificatori battevano gli sfollagenti sui tornelli. Non venne sparato un solo colpo. Non ci fu nemmeno uno spruzzo di spray al peperoncino. Coriolanus si rese conto che le guardie dovevano aver ricevuto l'ordine di non toccare i tributi. Quando i pacificatori lo aiutarono a rimettersi in piedi, esclamò con rabbia, grazie per averci coperto le spalle. «Obedivamo agli ordini. Non dare la colpa a noi se la dottoressa Gol ti considera sacrificabile, ragazzo», disse l'anziano pacificatore che gli aveva garantito protezione. Qualche soldato cercò di sorreggerlo, ma lui lo allontanò in malo modo. «Posso camminare! Posso camminare e non grazie a voi!» Ma poi ebbe uno sbandamento che per poco non lo fece cadere. Così lo sollevarono un'altra volta e insieme tornarono ad attraversare l'atrio. Coriolanus farfugliò una lunga serie di volgarità che non impressionarono nessuno e rimase nelle loro mani a peso morto finché non lo abbandonarono senza tante cerimonie appena fuori dall'arena. Un minuto dopo depositarono Sejanus al suo fianco e i due giacquero ansimanti sul rivestimento che abbelliva l'ingresso dell'anfiteatro. «Mi dispiace tanto, Corio», disse Sejanus. «Mi dispiace tanto». Corio era un nomignolo riservato ai vecchi amici, ai familiari, alle persone che lui amava. E Sejanus aveva deciso di usarlo proprio adesso. Se solo ne avesse avuto la forza, Coriolanus lo avrebbe strangolato. Nessuno badava a loro, ma era sparita. La dottoressa Gole e il decano Highbottom discutevano di livelli audio guardandola diretta nel furgone. I pacificatori se ne stavano lì a gruppi sparsi in attesa di istruzioni. Passarono cinque minuti prima che un'ambulanza arrivasse e spalancasse il portellone posteriore. I ragazzi vennero caricati a bordo nel disinteresse generale. L'infermiera diede a Coriolanus una garza da premere sulla ferita al braccio, mentre lei si occupava del problema più urgente del polpaccio di Sejanus, che sanguinava copiosamente. Coriolanus aveva paura di dover tornare all'ospedale e dall'inaffidabile dottor Wayne, ma poi vide dal finestrino che erano arrivati alla cittadella, luogo che gli faceva ancora più paura. Scaricati in barella, furono rapidamente trasportati nelle profondità dell'edificio, fino al piano del laboratorio dove Clemenzia era stata attaccata dai serpenti, e Coriolanus non poté che chiedersi quali alterazioni avessero in serbo per lui. Gli incidenti dovevano essere frequentili, perché ad attenderli c'era un piccolo ambulatorio. Forse era stato inadeguato nell'assistere Clemenzia, ma sembrava perfettamente idoneo a ricucire i ragazzi. Nonostante la tenda bianca che separava i due letti da ospedale, Coriolanus udì Sejanus dare risposte monosillabiche alle domande dei medici. Lui stesso parlò poco di più mentre gli suturavano il braccio e gli ripulivano il viso escoliato. Gli faceva male la testa, ma non aveva il coraggio di rivelare che la sua commozione cerebrale era ricomparsa, per paura di finire in ospedale a tempo indeterminato. Voleva solo allontanarsi da quella gente. Nonostante le proteste, però, gli attaccarono una flebo al braccio per reidratarlo, e gli somministrarono un cocktail di farmaci. rimase sdraiato, rigido, a letto, imponendosi di non scappare. Anche se aveva eseguito gli ordini della dottoressa Gol, anche se ce l'aveva fatta, si sentiva più vulnerabile che mai. Ed eccolo disteso lì, ferito e in trappola, nascosto nella tana di quella donna. Il dolore al braccio diminuì, ma non sentì calare su di sé il sipario vellutato della morfamina. Dovevano avergli dato qualche altro farmaco, perché semmai aveva l'impressione che la sua mente fosse più lucida, e notava ogni cosa, dall'onda del lenzuolo, al cerotto sulla pelle scorticata, al sapore amaro che la tazza metallica dell'acqua gli lasciava sulla lingua. Con i loro stivali rumorosi, i pacificatori arrivarono e se ne andarono, portandosi dietro uno zoppicante seianus. Nel ventre del laboratorio, una serie di stridi annunciò l'ora del pasto di qualche creatura, e un vago odore di pesce arrivò fino a lui. Dopodiché sul luogo scese un relativo, prolungato silenzio. Pensò di provare a sgattaiolare via, ma in cuor suo sapeva di dover aspettare. Aspettare che un passo frusciante raggiungesse il suo cubicolo. Quando la dottoressa Golti rola tenda, la luminosità crepuscolare del laboratorio di notte diede a Coriolanus la strana impressione che la donna si trovasse sull'orlo di un precipizio, che se l'avesse spinta anche solo con un dito, sarebbe caduta all'indietro in qualche profondo baratro, e di lei non si sarebbe saputo più nulla. Magari, pensò, magari. Invece la dottoressa avanzò e gli mise due dita sul polso per controllare il battito. Lui trasalì al contatto delle sue dita fredde e rugose. Ho iniziato come medico, sai, disse. Ostetricia? È terribile, pensò Coriolanus, che la prima cosa al mondo che un bambino vede sia tu. Non era per niente adatta a me, proseguì la donna. I genitori vogliono sempre rassicurazioni che non puoi dargli. Sul futuro che affronteranno i loro figli, come posso sapere in cosa si imbatteranno? Come te, stasera? Chi avrebbe mai immaginato che il figlioletto adorato di Crassus Snow si sarebbe trovato a lottare per la sua vita nell'arena di Capitol City? Lui no, per esempio. Coriolanus non sapeva come reagire. Il padre se lo ricordava appena, figuriamoci se poteva indovinare le sue fantasie. Come è stato? Nell'arena, chiese la dottoressa Gol. Spaventoso, rispose seccamente Coriolanus. Tutto è pensato perché lo sia. Gli controllò le pupille, puntando una luce in ciascun occhio. E i tributi? La luce gli faceva dolere la testa. Cosa? La dottoressa Gol passò ai punti di sutura. Cos'hai pensato di loro adesso che non sono più in catene? Cosa ne pensi adesso che hanno tentato di ucciderti? Perché dalla tua morte non avrebbero tratto alcun vantaggio? Tu non sei un rivale. Era vero. Gli si erano avvicinati abbastanza per riconoscerlo. Ma avevano dato la caccia a lui e a Sejanus. Sejanus. Che li aveva sempre trattati bene. Gli aveva sfamati. Difesi. Aveva offerto loro un ultimo conforto. Invece di sfruttare l'occasione per uccidersi l'un l'altro. Credo di aver sottovalutato la portata del loro odio per noi, disse Coriolanus. E quando te ne sei reso conto? Qual è stata la tua reazione? Chiese la donna. Ripensò a Bobbin. Ma alla fuga. Alla sete di sangue dei tributi anche dopo che lui e Sejanus avevano superato le sbarre. Li volevo morti. Volevo morto ognuno di loro. La dottoressa Gould annui. Beh, missione compiuta con quel piccoletto del distretto 8. L'hai picchiato a sangue. Dovrò inventarmi una storia che quel buffone di Flickerman possa raccontare in mattinata. Ma che splendida opportunità per te. Di trasformarti. E mi ha trasformato. Coriolanus ricordò i tonfi sordi e ripugnanti dell'asse che calava su Bobbin. Quindi cosa aveva fatto? Aveva assassinato il ragazzo. No. Assassinato no. Era un caso già risolto di legittima difesa. Ma allora? Ucciderlo l'aveva ucciso. E niente l'avrebbe mai cancellato. Non ci sarebbe stato modo di riacquistare l'innocenza. Aveva tolto la vita a un essere umano. Pensi di no? Ti ha trasformato più di quanto sperassi? Avevo bisogno di te per far uscire Sejanus dall'arena, certo. Ma volevo anche che tu l'arena la assaggiassi, disse. A costo di uccidermi, chiese Coriolanus. Senza il pericolo di morire? Non sarebbe stata una gran lezione, rispose la Gol. Cos'è successo nell'arena? Quella che hai conosciuto era umanità spogliata di ogni ornamento. I tributi. E anche tu. Hai sperimentato come svanisce alla svelta la civiltà. Tutte le tue buone maniere, l'educazione, il contesto familiare, tutto quello di cui vai fiero, tutto strappato di dosso in un batter d'occhio fino a rivelare ciò che sei realmente. Un ragazzo con una clava che picchia a morte un altro ragazzo. Questa è la razza umana allo stato di natura. L'idea esposta in quel modo lo turbò, ma rischiò comunque una risata. Siamo davvero così cattivi? Io direi di sì, senz'altro, ma dipende dai punti di vista. La dottoressa Gol estrasse dalla tasca del camice un rotolo di garza. Tu cosa ne pensi? Penso che non avrei picchiato a morte nessuno se lei non mi avesse buttato in quell'arena. La rimbeccò. Puoi prendertela con le circostanze, con l'ambiente, ma sei tu ad aver fatto le scelte che hai fatto nessun altro. È molto da digerire tutto in una volta, eppure è fondamentale che ti sforzi di rispondere a questa domanda. Chi sono gli esseri umani? Perché è da quello che siamo che dipende il tipo di governo di cui abbiamo bisogno. Più avanti mi auguro che sarai in grado di riflettere e di essere sincero con te stesso su ciò che hai imparato stanotte. La dottoressa Gol cominciò ad avvolgergli la garza intorno alla ferita. E qualche punto al braccio è un piccolo prezzo da pagare. Coriolanus si sentiva nauseato dalle sue parole, ma ancor più inferocito dal fatto che l'avesse costretto a uccidere per impartirgli una lezione. Una cosa tanto importante avrebbe dovuto essere una decisione sua, non della Gol, solo ed esclusivamente sua. Quindi se io sono una bestia feroce, lei che cos'è? Lei è l'insegnante che ha mandato il suo studente a picchiare a morte un altro ragazzo. Uh, certo che sì, è la parte che mi è toccata. La donna finì di fasciarlo con cura. Sei, io e il decano High Bottom abbiamo letto attentamente il tuo tema su quello che ti è piaciuto della guerra. Un sacco di fesserie, banalità, fino alla parte conclusiva, quella sul controllo. Come prossimo compito mi piacerebbe che approfondissi il concetto? Il valore del controllo? O cosa succede se non c'è? Prenditi il tempo necessario, ma potrebbe essere una bella appendice alla tua richiesta di candidatura al premio. Coriolanus sapeva bene cosa succedeva senza controllo. L'aveva visto di recente, allo zoo quando era morta Aracne, nell'arena quando erano esplose le bombe, e di nuovo quella sera. Si precipita nel caos, cos'altro c'è da dire? Uh, parecchie cose, penso. Comincia da questa. Caos. Niente controllo, niente leggi, nessun tipo di governo. Come essere nell'arena. E qual è il punto d'arrivo? Che genere di patto è necessario per vivere in pace? Che genere di contratto sociale serve per sopravvivere? Gli staccò la flebo dal braccio. Occorre che ti faccia rivedere tra un paio di giorni per controllare quei punti. Fino ad allora ti consiglierei di tenere per te gli avvenimenti di stanotte. Farei meglio a tornare a casa per dormire qualche ora. A sorpresa, il tuo tributo ha ancora bisogno di te. Dopo che la donna fu uscita, Coriolanus si infilò nuovamente la camicia lacera e insanguinata. Piano. Prima un braccio, poi l'altro. Quindi allacciò i bottoni. Gironzolò fino a trovare l'ascensore per il piano terra e le guardie indifferenti gli fecero cenno di uscire. Il servizio di tram finiva a mezzanotte e l'orologio di Capitol City segnava le due, ragion per cui non gli rimase che puntare le scarpe sudice verso casa. La lussuosa auto dei Plint scivolò accanto a lui e quando il finestrino si abbassò, apparve l'autista senza voce, che poi scese ad aprirgli lo sportello. Coriolanus immaginò che avesse già portato a casa Sejanus e che Ma lo avesse rimandato indietro. Dal momento che non c'era traccia dei Plint sulla macchina, Coriolanus salì. Un ultimo viaggio, poi non avrebbe più voluto avere niente a che fare con quella famiglia. Quando lo lasciò davanti al suo palazzo, l'autista gli consegnò un voluminoso sacchetto di carta. L'auto si allontanò prima che lui potesse protestare. A casa Tigris lo aspettava davanti al tavolino da tè, avvolto in una logora pelliccia che era stata di sua madre. Le infondeva sicurezza quanto il porta cipria ne infondeva lui, almeno prima che lo riconvertisse in arma. Prese la giacca della divisa scolastica dall'attaccapanni e se la infilò sopra la camicia rovinata prima di andare incontro alla cugina. Coriolanus tentò di minimizzare quella nottata spaventosa. Non è stato così tragico. Perché hai avuto bisogno della pelliccia? Le dita di lei affondarono nel pelo. Dimmelo tu. Lo farò. Ti racconterò tutto nei dettagli. Ma domani mattina, va bene? Va bene. Quando Tigris si allungò per dargli il bacio della buonanotte, la sua mano sentì lo spessore della fasciatura sul braccio. Prima che lui potesse fermarla, Tigris gli scostò la giacca e vide il sangue. Si morse un labbro. Oh Corio, ti hanno fatto entrare nell'arena, vero? La abbracciò. Non è andata così male. In fondo sono qui. Ho anche tirato fuori Sejanus. Non è andata così male. È orribile pensarti là dentro. Pensare a chiunque là dentro, gridò lei. Povera Lucy Gray. Lucy Gray. Adesso che lui stesso era stato nell'arena e non in visita, la situazione della ragazza gli sembrava ancora più disperata di prima. Il pensiero di lei, rannicchiata da qualche parte là dentro, nella gelida oscurità, troppo atterrita per chiudere gli occhi, gli procurava un dolore fisico. Per la prima volta si sentì felice di aver ucciso Bobbin. Se non altro, l'aveva salvata da quella belva. Andrà tutto bene, Tigris. Però devi permettermi di riposare un po'. E anche tu hai bisogno di dormire. La ragazza a noi, Macoriolanus, sapeva che sarebbe stata fortunata se avesse schiacciato un pisolino di un paio d'ore. Le tese il sacchetto. Con i complimenti della signora Plint. Colazione, a giudicare dal profumo. La mangiamo insieme? Senza nemmeno lavarsi, sprofondò in uno stato comatoso dal quale lo risvegliò la voce della signora nonna che cantava l'inno. Era comunque ora di alzarsi. Dolorante dalla testa ai piedi, barcollò fino alla doccia, tolse la garza dal braccio e lasciò che l'acqua bollente scorresse sulla sua carne scorticata. Aveva un tubetto di pomata dal ricovero in ospedale. E anche se non sapeva bene a cosa servisse, se l'applicò sul viso e sul mento escoriati. I punti che aveva al braccio grattarono sulla camicia pulita, ma senza sanguinare. In ogni caso, quel giorno avrebbe messo la giacca. Buttò uno spazzolino da denti e una divisa pulita nello zaino. Si diede un ultimo sguardo dallo specchio e sospirò. Un incidente in bicicletta, pensò. È così che è andata. Anche se sono anni che non ho una bicicletta che funzioni. Beh, adesso aveva una scusa per lividi e ferite. Quando fu presentabile, la prima cosa che fece fu verificare in tv che a Lucy Gray non fosse accaduto niente di male. Ma la telecamera non si era spostata, quindi l'unico tributo visibile alla luce di quelle prime ore del mattino era la mina sulla sua traversa. Evitando la signora nonna, entrò in cucina, dove Tigris stava scaldando il tè al gelsomino rimasto. Sono in ritardo, disse Coriolanus, meglio che scappi. Prendi questo per colazione. Gli mise in mano un pacchetto e in tasca un paio di gettoni. E vai con il tram oggi. Dato che aveva bisogno di risparmiare energie, fece come gli era stato detto, viaggiando in tram e divorando i due grossi panini traboccanti uova e salsiccia che aveva mandato la signora Plint. Avrebbe avuto un unico rimpianto nello scaricare quella famiglia, e cioè rinunciare alla cucina di Ma. Agli studenti era stato detto di presentarsi alle otto meno un quarto, perciò tra i primi arrivati c'erano solo i mentori attivi e alcuni senza voce che mettevano in ordine la sala. Coriolanus non riuscì a non lanciare uno sguardo colpevole a Juno Phipps, occupata a discutere la sua strategia con Domizia, quando avrebbe potuto dormire fino a tardi. Juno non gli piaceva granché. Era sempre lì a sbattergli in faccia il suo lignaggio, come se quello degli Snow non fosse altrettanto alto. Ma la notte precedente non era stata giusta nemmeno con lei. Si chiese come avrebbe comunicato la morte di Bobbin e come si sarebbe sentito lui in quel momento, oltre che nauseato. L'unica cosa che venne servita a Heavensby Hall fu il tè, fatto che suscitò i brontolì di Festus. «Visto che dovevamo essere qui di buon'ora, potevano almeno darci da mangiare. Cos'è successo alla tua faccia?» «Incidente invece», rispose Coriolanus a voce alta, per farsi sentire da tutti. Gettò il sacchetto con l'ultimo panino a Festus, felice di poter essere lui a offrire qualcosa, una volta tanto. Doveva i Creed più pasti di quanti avesse voglia di ricordare. «Grazie, questa roba ha un aspetto magnifico», disse Festus, avventandosi all'istante sul cibo. L'Isistrata gli consigliò una crema per prevenire le infezioni. Insieme proseguirono fino ai loro posti, mentre i compagni cominciavano ad arrivare. Anche se il sole era sorto ormai da qualche ora, sullo schermo che proiettava le immagini dell'arena, non sembrava che le cose fossero poi cambiate molto, se si escludeva la sparizione del corpo di Marcus. «Presumo che lo abbiano rimosso», disse Cucciolo. Coriolanus invece pensava che potesse essere ancora davanti alla barricata, nel punto in cui lui e Sejanus lo avevano abbandonato la notte prima, appena fuori dall'inquadratura. Allo scoccare delle otto si alzarono tutti in piedi per l'inno, che i suoi compagni sembravano aver finalmente imparato. Dopodiché apparve Lucky Flickerman per dare al pubblico il benvenuto al secondo giorno degli Hunger Games. «Mentre voi dormivate, è accaduta una cosa piuttosto importante, ma diamo un'occhiata insieme. Staccarono sulla panoramica dell'arena, poi ruotarono ad agio la telecamera verso la barricata e zoomarono. Come aveva sospettato Coriolanus, il cadavere di Marcus giaceva esattamente dove lui e Sejanus l'avevano lasciato cadere. A qualche metro di distanza il corpo martoriato di Bobbin era accasciato contro un grosso pezzo di cemento. Era molto, molto peggio di come aveva immaginato. Braccia e gambe insanguinate, un occhio uscito dall'orbita, la faccia così gonfia da essere irriconoscibile. Aveva davvero fatto questo a un altro ragazzo, e così giovane per di più, perché da morto Bobbin appariva più piccolo che mai. Perso in un'oscura ragnatela di terrore, sembrava proprio che l'avesse fatto. Il sudore imperlò la fronte di Coriolanus, che avrebbe voluto lasciarsi alle spalle la sala, l'edificio, l'intera manifestazione. Ma naturalmente non poteva. Chi era lui? Un Sejanus qualunque? Dopo aver indugiato sui corpi, la linea tornò a Lucky, che si mise a riflettere su chi potesse aver commesso quell'azione. Poi il suo umore cambiò di colpo. Una notizia è certa, abbiamo qualcosa da festeggiare. Dal soffitto caddero coriandoli, e Lucky cominciò a suonare una trombetta di plastica. Perché siamo appena arrivati al giro di boa? Esatto, dodici tributi sono andati, perciò ne restano solo altri dodici. Un nastro di fazzoletti coloratissimi gli schizzò fuori dal pugno. Lucky lo roteò sopra la testa, ballando e gridando, yuhuu! Quando finalmente si placò, assunse un'espressione triste. Però questo significa anche che dobbiamo congedarci dalla signorina Juno Phipps, Lepidus. Lepidus si era già posizionato all'estremità della fila di posti in cui sedeva l'ignara Juno, che quindi non ebbe altra scelta se non raggiungerlo e affrontare la propria delusione indiretta. Coriolano si immaginava che, con un po' di preavviso, forse si sarebbe comportata più dignitosamente. Invece risultò solo acida e sospettosa, con quel suo modo di contestare gli ultimi sviluppi, mostrando per un attimo un raccoglitore di pelle decorato con lo stemma dei Phipps. «A me sembra ci sia qualcosa che puzza», disse Lepidus. «Cioè? Cosa ci fa laggiù con il corpo di Marcus? Chi ha spostato il cadavere? E come ho fatto Bobbin a finire ammazzato? Non riesco a immaginare un solo scenario plausibile. Ho la sensazione che sia stato commesso un crimine». Il reporter parve sinceramente perplesso. «Cos'è che definiresti crimine con esattezza? Voglio dire, nell'arena? Beh, non lo so con esattezza», sbuffò Iuno. «Ma per quanto mi riguarda vorrei proprio rivedere i fatti di ieri notte». «Aspetta e spera», pensò Coriolanus. Poi si rese conto che in effetti una registrazione esisteva. Nel retro del furgone la dottoressa Goal e il decano Highbottom stavano guardando entrambe le versioni della diretta, quella autentica e quella che avevano scurito per nascondere la sua missione. Sarebbe stato difficile vedere anche la trasmissione normale. Eppure non gli piaceva l'idea che da qualche parte ci fosse un video, per quanto buio, in cui lui uccideva Bobbin. Se mai fosse venuto fuori, beh, non aveva idea di cosa sarebbe accaduto. Però lo metteva a disagio. Lepidus non perse tempo con Iuno, che non sapeva affatto perdere e che mancava dell'eleganza di Felix nella sconfitta. Perciò la concedò con una pacca di consolazione sulla spalla. Ancora cosparso di Coriandoli, Lucky sembrava ignaro della sua sofferenza. Si protese verso la telecamera con un'allegria contenuta a fatica. «E adesso? Cosa pensate che succederà? Abbiamo una gigantesca sorpresa per voi, soprattutto se siete tra i dodici mentori rimasti!» Coriolanus e gli altri ebbero solo un istante per scambiarsi sguardi interrogativi, perché Lucky attraversò lo studio a grandi balzi fino a mostrare Sejanus seduto al fianco di suo padre, Strabo Plint, la cui espressione severa sembrava scolpita nello stesso granito del suo distretto d'origine. Lucky occupò la sedia del conduttore e diede un colpetto sulla gamba del ragazzo. «Sejanus, mi dispiace che ieri non abbiamo avuto un momento da dedicarti perché potessi commentare la scomparsa del tuo tributo, Marcus!» Sejanus si limitò a fissare Lucky con aria confusa. Il conduttore parve accorgersi per la prima volta delle escoriazioni sul viso del suo ospite. «Cos'è successo? Sembra che tu ti sia azzuffato da solo!» «Sono caduto dalla bici!» graccò Sejanus. E Coriolanus trassalì leggermente. Due disavventure ciclistiche nelle stesse 24 ore sembravano un po' sospette. «Ahi!» «Beh, credo che tu abbia notizie piuttosto importanti da condividere con noi!» disse Lucky con un cenno incoraggiante della testa. Sejanus abbassò gli occhi per un attimo e per quanto padre e figlio non dessero segno di notare l'uno la presenza dell'altro, pareva proprio che tra loro si stesse svolgendo una battaglia. «Sì!» disse Sejanus alla fine. «La famiglia Plint vorrebbe annunciare l'istituzione di una borsa di studio completa per l'università destinata al mentore del tributo vincitore degli Hunger Games». Cucciolo lanciò un gridolino e gli altri mentori si rivolsero grandi sorrisi. Coriolanus sapeva che la maggior parte di loro non aveva bisogno di quel denaro quanto lui, sempre ammesso che avesse bisogno di qualcosa, ma ottenerlo sarebbe stato un fiore all'occhiello per chiunque. «Strepitoso!» esclamò Lucky. «Che emozione devono provare i dodici mentori in questo momento! È stata una sua idea, Strabo? Istituire un premio Plint?» «È stata un'idea di mio figlio, in realtà», rispose Strabo, incurvando verso l'alto gli angoli delle labbra in quello che Coriolanus interpretò come un tentativo di sorriso. «Beh, il vostro è un gesto estremamente generoso, soprattutto se si tiene conto della sconfitta di Sejanus. Tu potrai anche non aver vinto i giochi, però di sicuro ti porti a casa il premio per la sportività. Credo di parlare a nome di tutta Capitol City nel porgervi un sentito ringraziamento.» Lucky rivolse un gran sorriso ai due, ma visto che non aggiungevano altro, fece un ampio gesto circolare con il braccio. «Benissimo, allora torniamo nell'arena!» La mente di Coriolanus turbinava per quel nuovo sviluppo. Sejanus aveva avuto ragione riguardo al precipitoso tentativo paterno di seppellire il comportamento scandaloso del figlio sotto una pioggia di contanti. D'altra parte, la situazione creata imponeva una limitazione dei danni. Non aveva sentito molte reazioni da parte dei presenti nella Heavens Be All a proposito della sfuriata con la sedia, ma si aspettava che girassero già delle voci. Un premio per il mentore del vincitore sembrava un piccolo prezzo da pagare, in realtà. Cosa avrebbe offerto Plint per evitare che la notizia del viaggetto di Sejanus nell'arena diventasse pubblica? Poteva aver intenzione di comprare il silenzio di Coriolanus? «Lascia perdere, lascia perdere», si disse il ragazzo. La novità più importante era la possibilità di vincere il premio Plint. Non dipendeva dall'accademia, quindi il decano Highbottom non avrebbe avuto voce in capitolo. E neppure la dottoressa Goal. Una borsa di studio completa che lo avrebbe liberato dal loro potere e gli avrebbe tolto dalle spalle quella tremenda preoccupazione per il futuro. La posta in gioco di quegli Hunger Games, già alta di suo, schizzava nella stratosfera. «Concentrati», si disse, facendo respiri lenti e profondi. «Concentrati su come aiutare Lucy Gray». D'altra parte, cosa c'era da fare se lei non si mostrava? Nel corso della mattinata, pochi tributi sembrarono tentati di uscire allo scoperto. Per un po', Coral e Mizzen gironzolarono fianco a fianco sul campo, prelevando il cibo e l'acqua inviati da Festus e Persefone. I due avevano passato del tempo insieme nel tentativo di elaborare una strategia comune per i loro tributi. E Coriolanus capiva benissimo che Festus si stava innamorando di lei. Si poteva dire al proprio migliore amico che l'oggetto della sua cotta era cannibale. Mai che ci fosse un regolamento quando serviva. Quando tornarono al palco dopo pranzo, scoprirono che i posti dei mentori erano stati ridotti a dodici, lasciando spazio solo per quelli che avevano ancora un tributo. «L'hanno richiesto gli strateghi», disse Satiria ai mentori rimasti. «Così per il pubblico è più facile tenere traccia di chi è ancora in gara. Toglieremo i posti a mano a mano che i vostri tributi verranno uccisi». «Come nel gioco delle sedie», disse Domizia tutta contenta. «Solo che qui c'è gente che muore», ribatté Lisistrata. La decisione di estromettere dal palco i perdenti invelenì Livi ancora di più, se possibile, e Coriolanus fu felice di vederla relegata nel settore del pubblico, dove lui non avrebbe più potuto ascoltare i suoi commenti sarcastici. D'altro canto, la situazione gli rendeva più difficile mettere distanza tra sé e Clemenzia, che sembrava trascorrere tutto il suo tempo libero a lanciargli sguardi truci. Prese posto in ultima fila, supportato da Festus e Lisistrata, e tentò di apparire impegnato. Con l'avanzare del pomeriggio, la sua testa si fece sempre più pesante, tanto che Lisistrata fu costretta per ben due volte a dargli un colpetto con il gomito per tenerlo sveglio. Forse era una fortuna che la giornata non gli richiedesse grossi sforzi, dato che la nottata lo aveva quasi ucciso. Gli avvistamenti dei tributi erano pochi, e Lucy Gray rimaneva ben nascosta. Fu solo nel tardo pomeriggio che gli Hunger Games mostrarono finalmente il genere di azione che la gente si aspettava. Il tributo femmina del distretto 5, una rachitica creaturina che per Coriolanus faceva semplicemente parte della massa informe, uscì dalle tribune all'estremità dell'arena. Lucky, che non aveva trovato il nome della ragazzina, riuscì solo a collegarla al suo altrettanto insignificante mentore, Ifigenia Moss, il cui padre sovrintendeva al Dipartimento dell'Agricoltura e, di conseguenza, alla distribuzione del cibo in tutto Panem. Contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, Ifigenia sembrava sempre al limite della denutrizione, dato che spesso regalava il pranzo ai compagni di scuola e a volte sveniva addirittura. Una volta Clemenzia aveva detto a Coriolanus che quello era l'unico modo in cui la ragazza poteva vendicarsi di suo padre, ma poi si era rifiutata di fornire ulteriori dettagli. Come era prevedibile, Ifigenia cominciò a scaricare tutto il cibo che poteva sul suo tributo, ma proprio mentre i droni intraprendevano il lungo viaggio attraverso l'arena, Mizen, Coral e Tanner, che sembravano aver formato una specie di branco dopo l'avventura della notte precedente, si materializzarono dai tunnel e diedero inizio alla caccia. Dopo un breve inseguimento lungo le tribune, i tre circondarono la ragazzina e Coral la uccise con un colpo di tridente alla gola. «Beh, fine della storia», disse Lucky, ancora incapace di recuperare il nome del tributo. «Cosa può dirci il suo mentore, Lepidus?» Ifigenia aveva già cercato Lepidus. Si chiamava Soul, o forse Sal. Aveva un accento strano, non c'è molto altro da dire. Lepidus sembrò propenso a concordare. «Ottimo lavoro portarla fino alla seconda parte dei giochi, Albina!» Ifigenia, lo corresse lei da sopra la spalla, mentre già scendeva dal palco. «È giusto», disse Lepidus. «E questo significa che rimangono solo undici tributi!» «Vale a dire dieci tra me e quel premio», pensò Coriolanus, osservando un senza voce che rimuoveva la sedia di Ifigenia. Avrebbe tanto voluto procurare cibo e acqua a Lucy Gray. Cosa sarebbe successo se avesse inviato qualcosa senza conoscere la sua posizione? Sullo schermo il branco recuperò il cibo di Soul, o Sal, e tornò verso i tunnel, forse per riposare un po' prima che scendesse la notte. Era il caso di rischiare adesso. Ne parlò a sussurri con Lizy Strata, che pensava valesse la pena di fare un tentativo mandando due droni insieme. «Non vogliamo che si indeboliscano e si disidratino troppo. Credo che Jessup non mandi giù niente da giorni. Aspettiamo di vedere se provano a contattarci. Diamogli tempo fino alla pausa cena». Ma Lucy Gray fece un'entrata a effetto proprio mentre gli studenti venivano lasciati liberi di tornare a casa. Si precipitò fuori dal tunnel, correndo a tutta velocità, le trecce allentate e i capelli sciolti che svolazzavano dietro di lei. «Dov'è Jessup?» chiese Lizy Strata, accigliata. «Perché non sono insieme?» Prima che Coriolanus potesse azzardare un'ipotesi, Jessup uscì barcollando dallo stesso tunnel da cui era scappata Lucy Gray. In un primo momento, Coriolanus pensò che lo avessero ferito, forse mentre difendeva la compagna. D'altra parte, come si spiegava la fuga di Lucy Gray? C'erano altri tributi che le davano la caccia. Quando la telecamera zoomò su Jessup, apparve chiaro che era malato, non ferito. Con gli arti rigidi e in preda a un'agitazione febbrile, tentò più volte di sferrare pugni al cielo prima di accovacciarsi e quasi subito scattare di nuovo in piedi, mentre l'obiettivo lo riprendeva in primo piano. Coriolanus si chiese se Lucy Gray avesse trovato un modo per avvelenarlo, ma non aveva senso. Jessup era troppo prezioso come difensore, specie con in giro il branco formatosi la notte precedente. Cosa lo tormentava allora? Poteva essere stato colpito da un'infinità di malattie, se non fosse stato per la bava rivelatrice che cominciava ad affiorargli alle labbra.